Anche quest'anno il Rotary propone le giornate di prevenzione dei tumori cutanei. Quando e dove si svolgerà l'iniziativa? L'iniziativa si svolgerà sabato 18 e domenica 19. Saremo ospitati come al solito presso Palazzo San Michele, sede dell'Università di Urbino. E' un ritorno per noi gioioso perché fondamentalmente per i Rotary la prevenzione delle malattie è uno dei cardini fondamentali che hanno creato interesse nel Rotary International. Per noi prevenire malattie, patologie come queste è l'aspetto che conta perché è l'unica maniera per poter aiutare delle persone a scoprire con anticipo questa patologia e quindi poterla curare. Soprattutto per persone che non se lo possono permettere perché queste visite sono totalmente gratuite. Il 18 e 19 aspettiamo i cittadini che vogliono provvedere a fare questo piccolo check up gratuito presso la Sala San Michele e questo è possibile perché il Rotary ha creato una serie di sinergie. La sinergia principale ovviamente è di Mirko Fanelli, il professor Fanelli, che tramite l'associazione ASSO, oltretutto Mirko Fanelli è un nostro socio, ci ha permesso di organizzare questa cosa per la sesta volta. Ma soprattutto la sinergia importante sono i dermatologi, senza di loro questa cosa non si potrebbe assolutamente fare. E quindi devo assolutamente ringraziare i quattro dermatologi che quest'anno si sono donati, e devo dire la verità, a disposizione del Rotary e della cittadinanza per fare queste visite. Ricordo che sono la dottoressa Ardestani, che è la responsabile dell'unità operativa di dermatologia dell'AST1, il dottor Augusto Galeazzi, il dottor Fabio Cecchini e il dottor Alessandro Benini, che invece lavora a Cesena, presso il Bufalini. Verranno allestiti proprio degli ambulatori ed è necessario prenotare? Allora, ci saranno degli ambulatori costituiti a posto in questo Palazzo San Michele, stiamo già strutturando il tutto, è necessario prenotarsi. In realtà abbiamo cercato, visto anche gli anni pregressi, di tenere una parte libera, per cui la prenotazione è gradita, è assolutamente gradita ed è fondamentale, tramite il nostro sito social di Facebook o tramite il nostro sito istituzionale rotaryclubfano.it. Una parte di queste visite cercheremo di lasciarli in estemporanea. a chi si presenterà, ovviamente dovete tenere presente che le visite saranno dalle 9 alle 13 di sabato e dalle 9 alle 13 di domenica, con i limiti di orario potrebbe qualcuno che si presenta senza prenotazione non riuscire ad avere la visita.